Ultima domanda, per quanto mi riguarda almeno naturalmente, inizierà a rispondere Mattia Di Tommaso questa volta. Allora, parliamo di costi della politica, di costi della pubblica amministrazione, di sprechi e di trasparenza, visto che insomma negli ultimi mesi il Movimento 5 Stelle su questo ha raccolto molti consensi. Che risposta intende dare se eletto sindaco di Roma su questo punto? Prego. Allora, bisogna introdurre un concetto molto chiaro, che chi ruba anche un solo euro alla collettività non è il più furbo del quartiere, è un ladro. E su questo bisogna essere chiari. La seconda cosa, io sono anche per l'età, per l'apertura digitale su tutto, quindi io sono d'accordo all'anagrafe pubblica degli eletti, a mettere tutto online, ma con l'avvertimento però che i cittadini non c'essino di controllare gli eletti dopo il voto. Per tutti i cinque anni l'invito che faccio è quello di andare a vedere le leggi, di andare a vedere come si svolgono i consigli comunali, quello che succede, cioè partecipare in maniera più attiva, in modo tale da poter controllare gli eletti e non avere più nessuna tolleranza. Io dico, ho ancora qualche secondo, dico solo una cosa, l'ultima cartolina che ci lascia alle manno è quella che prende il nome brutto di Parentopoli. Mi credo, Parentopoli non è, e sbaglia chi lo pensa, un altro ennesimo atto di corruzione all'italiana o di favoritismi. È un'offesa gravissima che viene fatta alla parte meritevole di talento, dinamica di questa città, che avrebbe tutte le qualità e tutte le competenze per occuparsi della cosa pubblica, ma purtroppo per queste scelte viene tagliata fuori. Noi vogliamo graduatori online, concorsi pubblici chiari, norme precise e i migliori si devono occupare delle aziende che poi ricadono sul servizio della qualità dei cittadini. Quindi è fondamentale questo passaggio. E chiedo subito la replica a Portogli. Va bene, chiede subito la replica per non perdere tempo. Va benissimo, avrà naturalmente il diritto di replica, anche Mattia... Esatto, replica alle proprie parole, molto interessante. Allora, siamo con Patrizia Prestipino, siete sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda sprechi, trasparenza, costi della politica, costi della pubblica amministrazione. La sua risposta in un minuto e mezzo. Sono mesi che io sto tra la gente in campagna elettorale, la cosa che mi viene detta più frequentemente è attenti alle proposte di Grillo. Tu Grillo lo batti non inseguendolo, ma sfidandolo sul piano delle azioni amministrative reali e concrete. E allora, taglio di tutto ciò che è superfluo. Io ho scritto che il 70% del parco auto, dell'auto blu del Comune di Roma, risparmi 15-16 milioni di euro che puoi reinvestire in servizi alla città, di ogni genere su cui andremo poi a ragionare con i cittadini e con le amministrazioni. Basta consulenze, basta super stipendi di manager, azzeramento della gran parte dei CDA, delle aziende partecipate, non solo del Comune di Roma, perché sono il vero terreno della vergognosa spartizione partitocratica. tu togli quella roba e finalmente non dai più fiato ai partiti per dire un posto tocca a me e un posto tocca a un altro. Bisogna razionalizzare. E tutto quello che verrà fatto con corsi pubblici, gare piccole, medie, grandi di appalto, deve essere trasparente. Sarà online sul sito del Comune di Roma, come saranno online tutte le spese, compreso il caffè mio e della mia segreteria. Non sono argomenti, attenzione, demagogici, sono quello che oggi la gente chiede. E noi non possiamo voltare la faccia di fronte alla crisi, di fronte alla paura e alla povertà. O il buon esempio viene da amministratori onesti, seri, competenti ed efficienti, oppure siamo destinati ad inseguire piani demagogici, populistici, ma anche di assoluta inefficienza. Benissimo, allora grazie a Patrizia Prestipino. Ricordo ancora l'hashtag Primarie Roma. Andiamo avanti, la prossima risposta, in fatto di trasparenza, sprechi e quant'altro. Paolo Gentiloni, prego, un minuto e mezzo. Sì, naturalmente siamo tutti d'accordo, questa è una delle emergenze del momento. È un'emergenza perché è alla radice della crisi della politica. Oggi la politica, i partiti, le funzioni di governo sono in crisi perché riescono a decidere poco, che sono troppo lente rispetto ai bisogni dei cittadini e perché danno degli esempi pessimi. Io ci ho lavorato un po' cercando di capire quali possono essere delle decisioni che almeno dal punto di vista simbolico, ma non è solo simbolico, diano dei segnali di inversione e di tendenza. E almeno due cose credo che, almeno io sono certo che si possano fare. Primo, dimezzare i costi di staff, di consulenze degli organi politici e del sindaco. si guadagnano facilmente un paio di milioni. Secondo, lavorare sui consigli di amministrazione delle società in house, cioè quelle totalmente possedute del Comune, che oggi costano circa 4 milioni e mezzo, tutti assieme. Anche qui si può risparmiare almeno 2 milioni, 2 milioni e 2. Il totale sono 4 milioni e 2, si possono fare tanti altri esempi. Pensiamo che le società in house, siccome c'è il blocco delle assunzioni al Comune, hanno aumentato i loro dipendenti del 20% negli ultimi due o tre anni. Quindi tante cose si possono fare. Ma 4 milioni e 2 risparmiati, traduciamoli in asilinido e in servizi agli anziani, non saranno competitivi con i 9 miliardi del Comune, ma sono qualcosa. Benissimo, grazie. Allora, andiamo avanti. La quarta risposta, questa volta, è la volta di Ignazio Marino. 90 secondi anche per lei, prego. Trasparenza e merito in Campidoglio, per me significa ad esempio che i manager debbano essere scelti non più dai partiti, ma debbano essere scelti dei tecnici sulla base del loro curriculum, della loro competenza, del loro merito. Nello stesso tempo, io credo che il Campidoglio debba essere una casa di vetro e aprirò da sindaco un ufficio dove tutti i cittadini possano andare, controllare il bilancio, voce per voce, con un tecnico, un esperto, che glielo spieghi, così come facciamo con i conti di casa nostra. Insomma, bilanci chiari. Ma la trasparenza deve iniziare da noi. Siamo i candidati del centro-sinistra. Dobbiamo dire che siamo trasparenti, che documentiamo ogni spesa. Ci siamo autoimposti un limite giusto, forse anche troppo alto, 50 mila euro per questa campagna delle primarie. Io chiedo che tutti, entro questa sera, così come ho fatto io, mettano sul proprio sito le spese euro per euro. Io ho speso fino a dopodomani, perché ho messo anche le spese di domani e di dopodomani, 32 mila 116 euro, considerando anche gli adesivi. Non ho fatto manifesti perché siamo in un momento di crisi economica e dobbiamo dimostrare davvero una certa frugalità anche nella nostra campagna elettorale. Quindi un invito a tutti, dimostriamo quanto siamo democratici, pubblichiamo il nostro bilancio online stasera. Benissimo, allora grazie anche a Ignazio Marino, Gemma Zuni, tocca a lei per quanto riguarda sprechi, trasparenza, merito e quant'altro, naturalmente. 60, 90 secondi di tempo, un minuto e mezzo. Allora, ho già parlato di trasparenza, abbondantemente l'informatizzazione e la trasmissione in streaming delle sedute dell'aula consigliare è fondamentale, perché i cittadini vedano dal vivo quello che succede in aula. Sprechi, cominciamo a eliminare le consulenze, eliminiamo i consigli di amministrazione. Chi governa le società, che devono essere prosciuvate, sono tanta oggi, è una vergogna, deve, come dire, aver legato l'indenità di funzione agli obiettivi raggiunti. Non è più possibile andare avanti su questo passo, così come è successo oggi. Vorrei anche eliminare incariche esterne, le abbiamo viste, non hanno competenze, molto spesso appartengono a parentele politiche e basta tutte queste modalità che riempiono di spese il Consiglio Comunale. Bilancio, che cosa dobbiamo chiedere? Intanto l'investimento sui cespiti 42.000 e immobili del Comune di Roma. Non hanno reddittività e abbandonato, da lì bisogna partire per trovare risorse, bisogna recuperare i soldi del contorno edilizio, 250 milioni e si voleva vendere il 21% di Acea, produttivo peraltro. Bisogna chiedere il recupero dell'evasione, illusione ama. Il bilancio deve essere a misura delle persone sulla base dei servizi da organizzare. Grazie. Allora anche a Gemma Zuni, siamo all'ultima risposta, in attesa di quelle che poi saranno le repliche, le ultime repliche, Davi Sassoli. Subito una ristrutturazione del bilancio, noi arriveremo al Campidoglio che troveremo una situazione sull'orlo del default e quindi subito ristrutturazione, non più bilancio consolidato, cioè rispetto a quello che ti ho dato l'anno precedente, ma cominciare subito a lavorare a progetti, a finanziare progetti, ad avere assessori che lavorano e presentano progetti e su quelli impegnare l'amministrazione. Trasparenza, rendicontazione innanzitutto. Io sono abituato in Europa, ogni euro pubblico si giustifica, anche perché lì, a differenza che in Italia, è reato penale. Sprechi. Il bilancio del Comune di Roma è una cassaforte dei miracoli. Sono andato a incontrare le associazioni della disabilità, hanno 800 mila euro di mancato pagamento dal Comune. 800 mila euro significa due cachet a un cantante napoletano per un progetto sul bullismo. Ecco, credo che queste cose, con la mia amministrazione, non capiteranno più. Benissimo, allora, grazie anche a Davi Sassoli che ha, come dire, bruciato velocemente i tempi di quest'ultima risposta. Siamo alle repliche. Mattia Di Tommaso, un minuto di tempo per la sua seconda replica. La mia replica è semplice e si rifà a quella di Marino. A me, quando il Comitato Romano Bene Comune ha detto non puoi spendere più di 50 mila euro, la mia risposta è stata ad averceli 50 mila euro. Io, domani sarà pubblico, abbiamo speso meno, meno di mille euro. E questo perché i miei poteri forti, lo dico sempre e li ringrazio, sono stati un patrimonio di volontari, giovani uomini e donne, più donne tra l'altro, Under 28, molti di loro hanno la prima esperienza, hanno messo in modo un movimento incredibile che mi auguro non si arresti e abbiamo potenziato i social network perché è quello il futuro, ovviamente non potendo competere sui manifesti e su altre attività di propaganda tradizionale, ma speriamo di essere arrivati comunque all'obiettivo. Una cosa importante, la volevo dire prima, è per quanto riguarda i servizi alle persone, su Roma bisogna fare i controlli sulle dichiarazioni dei redditi perché chi non ha diritto non deve ricevere finanziamenti o comunque sovvenzioni e aiuti da parte del Comune. Questa è una priorità. Grazie, allora grazie naturalmente anche a Mattia Di Tommaso, secondo ed ultimo diritto di replica anche per Paolo Gentiloni, 60 secondi di tempo, prego. Sì, volevo appunto rispondere anche un po' all'invito fatto da Ignazio Marino, anche noi metteremo online le spese della nostra campagna perché mi sembra assolutamente corretto farlo, fino all'ultima spesa, non ci mettiamo lo spumante per scaramanzia, ma insomma è scherzo naturalmente. Lo aggiungeremo in un secondo momento. Quello lo mettiamo fuori, fuori quota. No, volevo anche aggiungere sul tema della trasparenza, cerchiamo di cogliere al massimo l'occasione che ci dà il digitale, che ci danno i social network. Forse non siamo fino in fondo consapevoli di quanto dare importanza a questa cosa, io penso che non dobbiamo avere degli assessori che fanno appalti di informatica, dobbiamo avere degli assessori che usano il digitale per la trasparenza e per semplificare la vita ai cittadini. Si può fare, addirittura si può avere una pagina Facebook del Comune in cui si decidono alcune cose piccole che riguardano la vita degli altri. Si può fare. Benissimo, si può fare, ultimo diritto di replica anche per Davi Sassoli. 60 secondi di tempo, prego. No, noi tutti abbiamo firmato questa carta di intenti che ci invita e ci impone delle regole molto trasparenti. Siamo tenuti tutti ad osservarle e a dimostrare quello che è stato speso in tempi e nei modi di una rendicontazione pubblica e trasparente. Quindi questo vale per tutti noi. Nessuno può dire non lo faccio. Tutti devono farlo perché fa parte dell'ingaggio, delle regole del gioco. Naturalmente il problema della trasparenza a Roma non può non significare mettere mano a tutto quello che oggi sembra non fare più notizia. Questa è una città degli scandali. È una città che ha dilapidato milioni e milioni di euro pubblici pubblici in assunzioni allegre, in appalti che non sono trasparenti. Ecco, io credo che parlare di trasparenza per quanto riguarda il Comune di Roma significa mettere mano a delle regole che oggi non ci sono.